Prosegue l'elenco sempre più lungo ed altisonante di nomi accostati al nuovo Montevarchi. Stavolta la società sembrerebbe essersi mossa in direzione Umbria, nello specifico verso la Subasio, finalista dei play-off nazionali dopo il secondo posto in eccellenza regionale dietro al Trestina. Di questa squadra sconfitta dai teramani del Pineto piacerebbe innanzitutto l'esperto bomber Porricelli, 35 anni ma in gol 23 volte in campionato, e con lui anche il fantasista Gabriele Bevilacqua, classe 86, nonché l'uomo di centrocampo Stefano Gramaccia, 29 anni. Da parte del sudalizio Aquilotto non c'è né conferma né smentita la possibile trattativa multipla ed anzi la risposta della dirigenza è che sono stati avviati colloqui con loro esattamente con molti altri, ricordando però ad esempio anche la vicenda a De Gori, un giocatore destinato adesso decisamente altrove. Però appunto anche solo l'aver parlato con chi è stato protagonista a livello nazionale appare come ulteriore testimonianza di ambizione di vittoria nella prossima eccellenza.